Ciao a tutti, il vero carisma. In questo video voglio parlarti del vero carisma, della capacità di esercitare carisma, esercitare fascino, esercitare leadership, diventare dei poli magnetici di attrazione. Ora, che cos'è il carisma? Prima di affrontare il tema, iscrivetevi al canale e seguitemi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Inoltre ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra i livelli di abbonamento di sostegno al canale, per dare un semplice sostegno al canale, oppure puoi scegliere l'abbonamento seminario online per partecipare ai seminari online e partecipando ai seminari online potrai, diciamo, avere, sviluppare anche il fascino, carisma, capacità di seduzione. I seminari online li faccio mensilmente. Ma veniamo al tema. Che cosa significa essere carismatici? Cosa significa avere carisma? Questo dono di attrarre. Intanto non è un dono, ma è qualcosa che si può sviluppare. Beh, pensate, non so, ad esempio a Marilyn per quanto riguarda le donne. Lei ha dimostrato, Marilyn, anche in esperimenti pratici, di poter passare da Norma Jean, la ragazza che sale in metropolitana e che nessuno nota, alla divina Marilyn, la donna che tutti desiderano. Beh, pensate, non so, ad esempio a Bill Clinton. Il fascino e il carisma che comunque esercitava Bill Clinton, considerato tra l'altro dopo che ha finito, diciamo, il secondo mandato anche da Presidente degli Stati Uniti, uno dei, anzi forse il migliore, qualcuno addirittura ha definito oratore o comunicatore in lingua inglese vivente. Pensate ad esempio ad un'altra persona molto carismatica, secondo me, Steve Jobs, che non c'è più, però che aveva veramente un carisma e un'abilità spettacolare. Ovviamente se una persona sviluppa carisma, se ne accorge, perché quando entra in una stanza con diverse persone, tutti lo notano, tutti vogliono ascoltarlo, tutti in qualche modo vogliono cercare la loro approvazione. Ecco, tutti li, tra virgolette, desiderano. Ecco, questo significa essere carismatici, cioè esercitare un'azione quasi magnetica, che ha carisma, ha questa capacità che non è innata, ma è imparata, diciamo. Certo, qualcuno l'ha imparata inconsapevolmente, come tutte le cose, non c'è, diciamo, l'acquisizione potrebbe non avvenire, non avvenire soltanto a livello logico e razionale, ma può avvenire anche a livello emotivo, subliminale, inconscio. Quindi il carisma è il fatto che la gente ti riconosce, ti apprezza, ti desidera da più punti di vista, comunque ti riconosce come leader e si affida. È una persona che ha carisma, è una persona che sa toccare gli altri e trasformare la loro vita. Il carisma, diciamo, motiva il mondo, spinge gli altri, le persone carismatiche che hanno carisma, sono fortemente motivanti. E questo sicuramente è nel bene e nel male, nel giusto e nello sbagliato. Non sto dicendo che il carisma è soltanto un qualcosa di positivo, assolutamente. Pensate ad esempio al lato oscuro del carisma, il massacro di Johnstone, quando nel lontano 1978 leader religiosi, in questo caso Jim Jones, indusse le persone della sua setta al più grande suicidio di massa della storia moderna, in cui quasi mille persone, 913 persone, che si erano raccolte appunto accanto a questo predicatore, questo predicatore le convinse a suicidarsi. O comunque pensate a, diciamo, a personalità carismatiche, come magari sono state Mussolini, Hitler, ma anche Lenin, Stalin, personaggi, cioè il carisma non è soltanto qualcosa legato, diciamo, alla positività. Il carisma è un'attitudine che si può sviluppare e poi in un modo o nell'altro. Il carisma è fondamentale comunque avere carisma anche nel lavoro, ma anche a un colloquio di assunzione, o, diciamo, quando si deve interagire con il capufficio. Il carisma è sempre importante. Le persone che sono carismatiche vengono, diciamo, reputate migliori sia dai superiori, ma anche dai subordinati. Quindi esercitare leadership. Il leader carismatico trascina, diciamo, le persone, i collaboratori, diciamo, a impegnarsi con grandi passioni, magari disposti a fare sacrifici e rinunce, che vanno ben oltre il dovere. Quindi questa è un'altra capacità che hanno le persone carismatiche. ma vale in tutti gli ambiti lavorativi, anche nella vendita. Un venditore carismatico, che ha carisma, vende molto di più di quelli che non hanno questa capacità, che poi andremo a vedere di cosa si tratta. Quindi il carisma è importante in tutti gli ambiti della nostra vita. È importante sia nell'educazione, sia per chi fa l'insegnante, l'educatore, il formatore. Non tanto per, come dire, la qualità di quello che uno insegna, ma per la capacità di farsi ascoltare. Perché l'insegnante, ad esempio, il vero problema non è che non sanno le cose, ma è che gli allievi spesso non li ascoltano, perché non sono interessati. Quindi un insegnante che ha carisma è in grado di farsi ascoltare, è in grado di, diciamo, trasmettere qualcosa che va oltre le situazioni da un punto di vista, diciamo, puramente della lezione in sé, ma dà qualcosa di più. Ovviamente anche, appunto, quindi nel mondo accademico, in tutte le aree della nostra vita è importante sviluppare carisma. La cosa fondamentale, però, è che il carisma non è magia, non è un qualcosa di innato che o ce l'hai o che non ce l'hai, e, diciamo, e se non ce l'hai, amen. Il vero carisma è qualcosa che si può imparare, anzi, impararlo è fondamentale, perché ti darà possibilità, ti darà possibilità di acquistare, di acquisire, diciamo, delle capacità che altre persone sicuramente non hanno e che avranno difficoltà comunque ad avere in qualunque caso. Quindi il carisma ha questa capacità di... sono dei comportamenti che si possono apprendere e apprendendoli trasformano completamente la tua vita. Non è un qualcosa... perché molte persone dicono è qualcosa che è innato. Innato vuol dire che è scolpito nei geni, un dono di natura. Se fosse così non si potrebbe imparare. E invece la buona notizia o cattiva notizia è che si può imparare. Però bisogna seguire dei metodi, bisogna seguire delle strategie. Io darò alcune istruzioni poi per... in successivi video per capire come acquisire, come sviluppare il carisma e anche nei seminari che faccio, nei corsi che faccio online, do istruzioni. Ma la cosa importante è che noi possiamo imparare. Già il credere di poterlo fare ti dà più carisma. Già se, diciamo, da questo video ti porti via diciamo il fatto che tu puoi avere carisma, già avrai più carisma. Già il fatto di crederlo lo realizza. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonando ti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. Ciao a tutti!